Trenta artisti e nove sedie espositive sparse per la città di Arezzo al Via, la Biennale Arezzo e Fotografia, l'ottava edizione che porta in città nomi importanti. Quest'anno le cifre sono abbastanza importanti perché abbiamo 30 mostre di 30 autori internazionali e assieme a queste ci sono le foto esposte di 20 soci dell'Associazione Fotografica e Mago sparse in 10 location diverse all'interno del centro storico di Arezzo, tutto ad ingresso gratuito. Abbiamo anche autori di rilievo, autori del National Geographic come Anup Shah, c'è Fulbio Bugani che è un'ambassador leica, abbiamo anche Concioro che invece rappresenta Asselblad e insieme a loro tantissimi altri autori. Tra gli artisti che espongono in collaborazione con il Fotoclub La Chimera c'è anche Aldo Luttini con la sua Il fascino delle stelle, tra gli scatti uno mai realizzato. Il sole al sostizio d'estate dal sorgere al tramonto. Questa foto non è mai stata fatta, non risulta che sia mai stata fatta da nessuno. Le foto saranno visibili al pubblico all'interno delle nove sedi che rimarranno aperte durante i weekend della Biennale. Il primo e due dicembre, il sette e l'otto dicembre e il quindici e sedici dicembre, sempre dalle dieci e trenta alle diciannove e trenta. L'accesso alle mostre è gratuito.